Il Signore è vostro Dio, disse ancora Giosuè, da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente, proprio Lui caccerà via dinnanzi a voi il Cananeo, il Tita, l'Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo. Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca, si immersero al limite delle acque. Baccio, baccio. Io sono venuta per darmi una mano. Bene, allora, mettiate lì il tavolo. Esatto, allora adesso mette lì il tavolo, fanno messo il protettore. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Buon appetito. Grazie a tutti.